Buonasera, allora, io vorrei rimandare un po' di voi a sentire quello che avevo detto su Facebook nell'intervallo, perché già leggevo, facciamo schifo, siamo vergognosi, Lavic è un bidone, sentivo tutte queste, leggevo tutti questi commenti, vergognosi, è una pena, che noia, basta, tutto sbagliato, insomma mi sembrava di leggere i commenti di sei mesi fa, più o meno sei mesi fa, quando c'era un altro allenatore, le stesse cose identiche, mi è stato conto, ma non possiamo criticare, no, si può criticare, però calma, pazienza, perché ho detto c'è un secondo tempo da giocare, c'è un secondo tempo da giocare e poi magari cambia tutto e siamo qui a parlare di un'altra partita, ma non è questione di dire, nessuno qui è genio, nessuno qui è, è un discorso normalissimo, bisogna avere pazienza, si è avuta nelle settimane precedenti, anche dopo un primo tempo magari giocato male, dall'Unione, giocato male, male, erano saltati fuori gli stessi difetti di sempre, cioè di sempre, delle ultime tre partite, bene in difesa, bene da tre quarti di campo, meno bene per liberare qualcuno al tiro, non si trovavano soluzioni per andare al tiro, anche i cross erano sbagliati, Nowic ha mancato un paio di agganci, insomma sembrava di assistere sostanzialmente alle ultime tre prestazioni senza gol, però chiaramente si trattava solo del primo tempo, molto spesso cosa succede? Che basta un episodio, basta qualcosina per cambiare l'inerzia di una gara, all'inizio del secondo tempo c'è stato questo rigore nettissimo per un fallo di mano, nessuno nemmeno Belgeno ha protestato, Laovic segna, basta, cambia tutta la partita, ma è normale, cioè ragazzi è una questione di normalità, Laovic raddoppia, capo cadognero da io con quattro gol, intanto ha vituperato Laovic che è un bidone, che non sa toccare un pallone, che è da mandare via, adesso intanto ha segnato quattro gol in campionato, di cui due su rigore, ma il raddoppio è stata la stessa azione di Empoli, solo che anzi più difficile se vogliamo è la messa nell'angolo più lontano. È per dire ragazzi, non che adesso la Juve è stratosferica, è fantastica, perché domani sui giornali si leggerà magari anche qualcosa di altro genere, l'esaltazione oltremisura di questa squadra che vince la terza partita per 3-0, che non subisce gol nelle prime sei giornate e questo sì, è un grosso vanto per questa squadra, 6 per 9, 54, 540 minuti senza subire gol, credo che sia importantissimo questo come dato. Quindi adesso ci sarà l'esaltazione oltremisura perché non c'è equilibrio, perché non c'è voglia di fermarsi ad analizzare le cose. La Juve ha sbloccato tutto grazie a questo rigore, sacro santo, ed è normale che li trovi un impulso nuovo, è normale che ti scorra più adrenalina, è normale che ti vengono le cose che nel primo tempo non ti venivano o che nelle due partite precedenti non ti venivano, ma bastava avere un po' di pazienza e leggere certi giudizi tranchant come ho fatto io a fine del primo tempo. è veramente, boh, ma non va bene ragazzi, non va bene, cioè cercate di capire che ci vuole tranquillità, pazienza. Questa squadra è forte, è potenzialmente forte. L'altro giorno ho detto ha un potenziale enorme, ed è vero, ha un potenziale enorme. Si tratta semplicemente di attendere, di aspettare, di avere pazienza, di fare in modo che ognuno trovi la sua collocazione, di fare in modo che ognuno dia il 100% e possa darlo magari raggiungendo un livello di gamba e di velocità consone alla preparazione svolta. Non è una squadra, cioè è una squadra forte questa. Poi io non lo so dove potrà arrivare, non lo so, nessuno può sapere dove potrà arrivare. Ma questa è una squadra forte, è in grado di essere protagonista in questa stagione, in campionato e vediamo poi in Europa. Adesso c'è l'Ipsia mercoledì, io tra l'altro non ci sarò, l'Ipsia mercoledì. E questa è tutta un'altra storia, questa è tutta un'altra partita. Ma questa è una squadra dalle potenzialità enormi. E anche Vlaovic, magari dedicheremo un altro video a Vlaovic, a tutti i detrattori di Vlaovic che adesso naturalmente terranno il braccio corto perché insomma, se andate due ore, se come faccio a criticarlo, non scrivo neanche nei commenti perché se no. Però ragazzi, anche Vlaovic, basta, calma, tranquilli. Oggi ha segnato due gol Lautaro, bene, ha segnato due gol anche Vlaovic e quindi gli attaccanti sono così. Hanno dei momenti in cui le cose non vanno bene, fanno fatica, hanno dei momenti in cui cominciano a segnare e si rimettono in carreggiata. Poi è vero, poteva farne anche di più Vlaovic oggi. Ha mancato un colpo di testa nel secondo tempo, ha mancato un aggancio anche nel secondo tempo di una palla che poteva buttare dentro. Quindi non ha fatto una prestazione superlativa, ok? Ha fatto il suo dovere, come è in grado di fare. Stop! Anche su Vlaovic bastava avere un pochino di pazienza, ragazzi. Un pochino di pazienza. È una virtù che bisognerebbe sempre mettere in tutte le cose. Ok? Allora, veniamo al giudizio sui singoli, perché ragazzi a me piace moltissimo con sei salvo. Ma non pensavo fosse così bravo. È uno che punta l'uomo, scappa via, ha una statura alla giovinco più o meno, ha un'esplosività nelle gambe che è pazzesca. È stato premiato con il gol, giustamente, perché se lo meritava, ma è un giocatore che può veramente aprire alla difesa di due. È un giocatore che se raggiungerà la sua condizione ottimale e soprattutto se sarà accompagnato da buona sorte, quanto infortuni, perché insomma si era già fermato una volta, intanto le ure stanno facendo un riscaldamento, cioè stanno facendo defaticante coloro che non hanno giocato e coloro che hanno giocato poco. Sentite anche le voci che oggi si sentiva veramente dito. È un altro potenziale importantissimo da questa squadra. È uno che crea la superiorità numerica, che va via. Oggi è stato determinante e poi è andato a segnare anche un gol importante per lui, per il suo morale eccetera. Poi Danilo, ha iniziato così così, poi si è tirato fuori. Rui qualche indecisione, però poi abbastanza bene. Bremer è cresciuto tantissimo, molto in fase di impostazione, ma ce lo dicevamo già. E devo dire ottima prestazione di Fagioli, lasciatemelo dire. È un pensatore, è un ragionatore. Ha fatto bene anche lui. E poi mi è piaciuto Douglas Lewis quando è entrato, anche Douglas Lewis. È entrato molto bene, è entrato con il passo giusto, è entrato facendo, tenendo meno palla, dandola molto più di prima. L'unico che in questo momento secondo me vedo un pochino fuori, un pochino fuori dal coro, perché sta cercando una sua collocazione, sta cercando la sua posizione, potrebbe essere Coop Miners. Per Coop Miners ci si può aspettare di più, ma è normale. Ma anche per noi vale lo stesso discorso, vale il discorso della pazienza, della calma, quindi tranquilli anche nel dare di dirsi. Ma è un consiglio che vi do, io non insegno niente a nessuno, l'ho imparato in tanti anni di esperienza. Ci vuole un pochino di pazienza e poi se il potenziale c'è e il potenziale c'è, le cose vengono fuori. Ragazzi, le cose vengono fuori. Per oggi la chiudo qua, approfondiremo i concetti poi nei prossimi giorni, ok? Iscrivetevi al canale e ci vediamo domani naturalmente. Ciao, ciao da Maressi.